Tanto benvenute, benvenuti tutte e tutti, ben trovate, ben trovati per chi ha frequentato altre iniziative. Come sapete questa è la campagna Riprendiamoci Comune che prova a mettere insieme realtà territoriali che appunto nei propri territori provano a ragionare di riappropriazione sociale dei beni comuni, di una diversa finanza locale, di una riappropriazione delle risorse economiche, in particolare della Cassa Depositi e Prestiti, di democrazia partecipativa e diciamo un po' tutti questi temi. Avevamo pensato nel primavera scorsa di organizzare per l'autunno un corso sul municipalismo, un po' per aiutare la riflessione di tutte e tutti presi dalle vertenze, lotte, esperienze territoriali, provare a costruire invece anche un ambito di riflessione che guarda anche oltre il proprio territorio, va a vedere laddove ci sono esperienze, ovviamente non con l'idea dell'automatismo dell'applicazione, quindi l'hanno fatto così facciamolo anche noi, ma per trovare spunti, riflessioni e capire meglio come proseguire il nostro percorso. Il corso sarà intenso, sono sei incontri, quello di oggi è il primo, oggi il titolo è inquadramento teorico sul municipalismo, ovviamente Yolanda Bianchi che è la relatrice di oggi ha fatto anche esperienza concreta, però diciamo a lei chiediamo di mettere insieme queste cose per darci un po' un quadro di riferimento di quando si dice municipalismo, di che cosa si parla, che esperienze si riconduce, quali sono diciamo le trame dentro le quali si ragiona. Il corso sarà con cadenza quindicinale, per cui sarà sempre di lunedì, fra due lunedì, cioè il 21 ottobre parleremo dell'esperienza della Comune di Parigi e della sua attualità con Francesco Brancaccio, l'11 novembre parleremo dell'esperienza di autogoverno delle comunità zapatiste in Chiapas con Raul Zibeci, il 25 novembre parleremo dell'esperienza del confederalismo democratico in Rojava, quindi un po' tutta l'esperienza diciamo purda e non solo con Caterina Tedone, il 2 dicembre parleremo delle potenzialità e limiti delle esperienze europee di municipalismo, in particolare Barcelona in Comun, di cui in parte parlerà anche oggi Yolanda, che la conosce bene, questa esperienza, è quella di Mozemo a Zagabria e lì ci saranno come relatori e relatrici Viviana Zara e Carlo Cragi, non so se ho pronunciato giusto, ma chiuderemo chiuderemo poi lunedì 10 dicembre con democrazia e autogoverno delle comunità territoriali, una riflessione a due voci dove ci sarà Rossano Pazzagli della società dei territorialisti e Maria Francesca De Tuglio che è quella che oggi dovrebbe facilitare l'incontro ma per il momento non riesce a collegarsi. Io direi che quando Maria Francesca si inserisce ovviamente... Ah ecco, benissimo, vai allora. Se per voi, se voi mi sentite. Io mi taccio e quindi la parola Maria Francesca. Ok, grazie. Sì, credo che sia stato molto utile da parte degli organizzatori, delle organizzatrici, prevedere un momento di inquadramento teorico perché innanzitutto il municipalismo e il neomunicipalismo di cui parliamo soprattutto in Italia è sicuramente un tema molto ampio. Diciamo, a priori possiamo dire che si collega molto bene al tema della campagna perché riguarda, almeno diciamo nelle esperienze italiane, nelle esperienze contemporanee europee, riguarda molto il tema di come ci si può riappropriare dell'istituzione locale come strumento per cambiare l'istituzione stessa, un po' per rimettere al centro le persone e diciamo le agende politiche che normalmente rimangono marginalizzate. Quindi sostanzialmente parliamo di municipalismo per definire varie forme e questo lo vedremo anche nel corso dell'incontro. Io faccio parte della rete municipalista europea che tra l'altro ha mappato diverse esperienze presenti di municipalismo e diciamo nella mappatura risulta bene che ci sono varie forme a cominciare dall'idea di candidarsi in un partito a livello municipale fino a sostenere appunto delle liste civiche o anche l'idea di continuare a fare un lavoro sociale sul territorio anche in connessione più o meno in connessione con le istituzioni locali ma ovviamente senza necessariamente prendere il potere. Quindi diciamo possiamo dire dall'inizio che non ci sorprenderemo se nel corso dei seminari vedremo esperienze molto diverse però penso che sia importante appunto iniziare a parlarne, a sviscerarle perché l'esperienza del municipalismo è stata una di quelle che hanno consentito di connettere tra loro diversi territori anche lontani tra di loro e anche senza necessariamente passare per il livello stato che è poi quello che a volte è più difficile da toccare. Quindi senza prendere ulteriore tempo introduco la relatrice di oggi che è Yolanda Bianchi, dottoressa di ricerca in scienze politiche e pianificazioni urbane e lavora come ricercatrice postdoc Marie Curie presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Anversa. La sua ricerca si concentra sull'interazione tra azione pubblica e azione collettiva nel contesto urbano per comprendere come questa interazione possa dare luogo a cambiamenti sociali, politici e di governance al fine di costruire città più giuste e democratiche. Opera all'incrocio tra la teoria del comune e del municipalismo. Quindi Yolanda a te la parola. Buonasera a tutti e a tutti. Prima di tutto volevo ringraziarvi per l'invito e per poter aprire il corso con l'inquadramento teorico che farò sul nuovo municipalismo. Cercherò di dare quello che può essere una definizione per capire come questa pratica del nuovo municipalismo si è sviluppata, quali sono i suoi obiettivi, quali sono la sua forma di organizzazione. In secondo luogo cercherò proprio perché volevo dare questo inquadramento teorico nel far vedere cosa c'è di nuovo nel nuovo municipalismo e quindi lo comparerò a quello che è stato il socialismo municipale, giusto per renderci conto delle differenze della congiuntura attuale e poi mi concentrerò un po' di più su quella che è l'agenda del nuovo municipalismo, quindi sulle politiche pubbliche e su come appunto queste politiche pubbliche possono essere cambiate ripensando appunto queste politiche sulla base della pratica non municipalista ma anche su riprendendo questa idea del comune, quindi vedremo come appunto anche questa idea del comune è un'idea centrale anche per il nuovo municipalismo stesso. Quindi per iniziare con una definizione, come possiamo definire il nuovo municipalismo? Il nuovo municipalismo lo possiamo definire come, io lo definisco come una pratica politica che è radicata nel contesto urbano e usa la scala locale come punto di ingresso, come punto di entrata per definire un cambio radicale nella politica e nella definizione delle politiche urbane. Appunto per il nuovo municipalismo, per il nuovo municipalismo nello specifico e per il municipalismo in generale, appunto la scala locale viene vista come un punto di partenza, è il punto dove si agisce, dove si concentra l'azione politica ma viene visto come il punto di partenza per poi diciamo produrre un cambio sociale, un cambio di politiche pubbliche che si sviluppa però anche ad altri livelli di governo. È appunto un punto di entrata per il cambio, proprio perché magari può essere attraverso i movimenti sociali, attraverso le elezioni municipali, attraverso le relazioni tra movimenti e partiti ci può essere appunto più possibilità di tradurre questa radicalità in azioni concrete e questo appunto è più possibile alla scala locale ma non si riduce ai cambi nella scala locale, anche perché diciamo nel contesto globale, nel contesto metropolitani in cui i limiti amministrativi molto spesso sono dei limiti fittizi e viviamo in delle città che sono diciamo molto più ampie di quelli che sono i limiti amministrativi, è impossibile ridurre l'azione politica, l'azione di cambio sociale, alla solo città di riferimento. Basti pensare non so al problema dell'abitare, il problema dell'abitare è un problema che non può essere risolto appunto se non ad una scala metropolitana e non si può risolvere unicamente alla scala di una singola città. Bene, quindi diciamo questa idea del nuovo municipalismo da dove viene questa definizione di nuovo? Io la collego un po' a quello che si è sviluppato in Spagna nel 2015 quando appunto molte città della Spagna iniziarono ad essere governate da questi partiti movimento, da queste piattaforme politiche che appunto univano tanto partiti di sinistra ma anche appunto attivisti e movimenti sociali. ovviamente quello che successe in Spagna fu qualcosa diciamo di rilevante a livello politico perché appunto in Spagna c'è diciamo le elezioni municipali si tengono lo stesso giorno per tutti quanti i municipi della Spagna quindi appunto nel maggio del 2015 si vide, si diciamo fu possibile vedere in maniera diciamo molto concreta questo cambio di governo che si stava realizzando in molti municipi spagnoli appunto Barcellona, Madrid ma anche Saragoza, Cordova, Valencia, molte città che per tantissimo tempo erano state governate da governi di destra iniziarono ad essere governate da queste diciamo piattaforme municipaliste. Quindi quello che nacque in Spagna che dove appunto molti teorici ma anche molti attivisti iniziarono a definire questo quello che successe in Spagna come lo iniziarono ad inquadrare come nuovo municipalismo ebbe una risonanza poi anche a livello internazionale. Questo che significa? Questo che significa non che diciamo il nuovo municipalismo nasce in Spagna per poi diffondersi in altri contesti europei o anche extraeuropei ma semplicemente che quello che stava succedendo in Spagna dato che appunto accade in maniera così evidente in tante appunto città spagnole ovviamente anche a radice di tutti i movimenti che si erano sviluppati in Spagna del dell'Indinados, del 15M eccetera eccetera cioè quello che stava succedendo in Spagna ha dato la possibilità di accorgersi che c'era diciamo una riorganizzazione della sinistra in molte altre città europee ovvero che ciò che stava accadendo in Spagna non era confinato alla Spagna ma stava accadendo anche in molti altri contesti europei in Italia poi appunto si può in Francia poi ovviamente in Italia si può discutere quello che può essere definito nuovo municipalismo o meno molto spesso appunto il caso di Napoli viene definito come nuovo municipalismo cioè il governo di De Magistris e appunto la sua relazione con i diversi movimenti sociali della città ci può essere un dibattito aperto su fino a che punto l'esperienza di Bologna potrebbe essere considerata nuovo municipalismo soprattutto da quando è entrata coalizione civica nel governo insomma questi per portare appunto il discorso nel contesto italiano ma in realtà appunto questo desiderio di sviluppare un cambio per partire dalla scala locale per produrre questo cambio sociale attraverso delle nuove forme di organizzazione di sinistra che non erano state diciamo presenti fino ad allora era qualcosa che era successo in Spagna è successo in Spagna in maniera diciamo particolarmente evidente ma che comunque si stava un po' riproducendo in molti altri in molti altri contesti contesti europei e qual è diciamo la caratteristica organizzativa del nuovo municipalismo un po' appunto anche dal discorso che ha fatto Maria Francesca può essere evidente il nuovo municipalismo appunto io lo definisco una pratica politica proprio perché non può essere definito né solo un partito politico né un movimento sociale appunto non è un partito politico che mira a ottenere il potere elettorale a livello locale per guidare trasformazioni radicali progressiste però non è neanche solo un movimento sociale che chiede dei cambiamenti di policy al governo locale appunto si tratta di una pratica politica che combina questi due elementi in modo tale che appunto pur considerando le istituzioni statali le istituzioni del governo locale come un'arena cruciale per la lotta politica e la trasformazione radicale non si limita all'operato della politica partitica e delle strategie elettorali al contrario mantiene azioni continue al di fuori di questo ambito che sono radicate appunto nella mobilitazione sociale nei movimenti sociali nell'attivismo eccetera eccetera quindi una caratteristica diciamo cruciale del nuovo municipalismo è questa riarticolazione tra appunto la sfera istituzionale e la sfera diciamo di movimento infatti molti di quelli che possono essere definiti come le piattaforme municipaliste che poi hanno partecipato diciamo al gioco elettorale un esempio può essere barcelona in comù sono appunto delle piattaforme che sono nate grazie alla confluenza di vecchi partiti della sinistra radicale e poi di attivisti e di movimenti non movimenti nel caso di barcelona in comù non sono entrati per intero dei movimenti sociali ma molti attivisti a titolo personale sono entrati appunto nell'organizzazione di barcelona in comù basti pensare appunto alla sindaca ad acolau lei appunto non faceva parte di una sinistra di partito ma era diciamo era stata negli ultimi anni la portavoce del movimento per il diritto alla casa barcellona un movimento che diciamo era stato particolarmente rilevante proprio perché barcelona e tutta la spagna sono state diciamo soprattutto dopo la crisi c'è stata un'ondata di sfratti incredibile che ha portato appunto a sviluppare questo movimento contro contro gli sfratti un movimento che poi appunto si è trasformato in un movimento anche per il diritto alla casa di cui ad acolau era appunto la portavoce quindi lei come diciamo attivista proveniente da questo movimento sociale ha contribuito a dare forma a barcelona in comù e poi appunto sappiamo la storia barcelona in comù ha vinto le elezioni municipali nel 2015 e nel 2019 e ad acolau ha governato barcellona per otto anni in spagna i mandati sono più brevi sono di quattro anni rispetto all'italia quindi diciamo questo è un elemento chiave per capire secondo me quello che è la pratica del nuovo municipalismo un elemento chiave che poi vedremo sarà anche molto importante nel capire quelle che sono le politiche pubbliche e come possono cambiare le politiche pubbliche nel contesto municipalista proprio appunto basate su questa riarticolazione che c'è tra la sfera istituzionale e la sfera appunto di movimento tra il governo locale e tra le istituzioni e le piazze e le strade questo diciamo è secondo me un elemento appunto chiave del municipalismo non possiamo a mio parere considerare delle esperienze municipaliste delle esperienze che sono solo basate sulla sull'azione di un partito politico per quanto possa essere diciamo di un partito politico di sinistra per capire meglio come possiamo intendere questo nuovo municipalismo e soprattutto cosa c'è di nuovo in questo nuovo municipalismo dobbiamo capire che l'idea di usare la città come spazio di trasformazione sociale non è un'idea nuova è un'idea che è sempre stata presente nella tradizione della sinistra con appunto momenti in cui è stata più presente di altri appunto in questa tradizione della sinistra e in questo senso mi volevo rifare un poco alla tradizione che si era sviluppata all'inizio del novecento del socialismo municipale il socialismo municipale fu appunto una specie di movimento politico che si sviluppò tra la fine dell'ottocento e all'inizio del novecento che voleva appunto implementare politiche e pratiche socialiste a livello locale principalmente nelle città e nei comuni per migliorare le condizioni di vita dei cittadini attraverso la gestione pubblica dei servizi essenziali e delle infrastrutture urbane si sviluppò principalmente in Europa ed ebbe la sua maggiore area di influenza tra il 1890 e il 1920 allora il paragone tra il nuovo municipalismo e il socialismo municipale secondo me ci può essere utile perché appunto lavorare a livello comparativo semplice è utile per capire che cosa sta succedendo a livello storico e paragonare appunto il nuovo municipalismo con il socialismo municipale ci può aiutare a capire quali sono le caratteristiche del nuovo municipalismo prima di tutto appunto siamo in un diverso periodo storico e siamo di fronte a diverse sfide nel senso il socialismo municipale si sviluppò al fine del 1800 nel momento in cui c'era un'assenza dell'intervento dello Stato o una limitata assenza dell'intervento dello Stato nelle politiche economiche nelle politiche del lavoro eccetera eccetera lo Stato, il welfare state ancora non esisteva come tale per quello all'epoca quello che fece il socialismo municipale fu di costruire le prime strutture di welfare a livello locale il welfare come lo conosciamo oggi si sviluppò essenzialmente a livello locale grazie al socialismo municipale grazie al socialismo municipale si costruirono le prime imprese d'acqua pubbliche si crearono i primi servizi sociali invece ora ci troviamo in un contesto completamente diverso il nuovo municipalismo si sviluppa soprattutto in seguito a tutto il periodo neoliberale che abbiamo vissuto negli anni 80, negli anni 90, nell'inizio degli anni 2000 con la crisi che questo diciamo neoliberismo questo approccio neoliberismo ha causato con le politiche di austerità che sono state imposte dall'Unione Europea e dagli Stati stessi quindi diciamo il nuovo municipalismo non è una risposta alla mancanza dell'intervento dello Stato ma è una risposta a quell'intervento dello Stato volto a neoliberalizzare la politica, le economie e la nostra vita è proprio una difesa contro una risposta e una difesa ma anche un'alternativa a quella che era appunto la proposta neoliberale voluta non solo dagli attori del mercato ma dagli stessi attori statali europei, nazionali e anche locali quindi diciamo ci troviamo di fronte ad una congiuntura molto diversa in questo senso in secondo luogo anche il nuovo municipalismo è diverso a livello geografico appunto il socialismo municipale si sviluppò soprattutto in Europa in diverse città europee il nuovo municipalismo quello ovviamente ha come ho detto si è emerso soprattutto grazie a quello che è successo in Spagna ma diciamo anche il nuovo municipalismo è un movimento che si sviluppa soprattutto nel contesto europeo ma cerca di tessere delle relazioni anche con molti altri contesti internazionali basti pensare proprio grazie appunto al dialogo che ci sono tra tanti attivisti spagnoli e latinoamericani molte esperienze latinoamericane come a Valparaiso per esempio si sono autodefinite esperienze municipaliste inoltre oltre a questo dialogo diciamo tra gli attivisti latinoamericani e gli attivisti spagnoli ovviamente c'è anche la volontà appunto di tessere un network di città che si possano definire o che vogliano implementare diciamo una pratica politica municipalista e questo è stato realizzato anche grazie ai diversi incontri definiti fearless cities cioè le città senza paura dove appunto il primo incontro si tenne a Barcellona ma poi tutti gli altri incontri si sono tenuti in diverse città dove si sviluppano degli scambi tra le diverse organizzazioni tra diversi attivisti sulle proposte politiche sulle politiche stesse, sulle forme di organizzazione, sulle sfide eccetera eccetera e poi abbiamo appunto una differenza degli attori di nuovo questo è quello che vi stavo commentando prima appunto magari il socialismo municipale vedeva comunque il partito è la conquista dello Stato locale come un elemento chiave per la produzione appunto del cambio sociale per la possibilità di implementare queste politiche progressiste ovviamente supportato dai diversi movimenti diciamo del lavoro eccetera eccetera però comunque lo Stato locale rimaneva un elemento chiave per poter implementare appunto questo cambio sociale queste politiche diciamo radicali invece come abbiamo detto il nuovo municipalismo si basa non solo sull'idea e sulla sull'idea di poter e dover diciamo partecipare al gioco elettorale per conquistare il potere e implementare un cambio ma anche appunto sui diversi spazi che possono essere creati al di fuori delle istituzioni statali quindi il municipalismo si basa appunto su una serie di attori che creano delle organizzazioni creano delle forme appunto di comune che si sviluppano nel tessuto sociale e continuano a creare un contropotere che si sviluppa appunto nel momento in cui per esempio un contropotere che diventa necessario nel momento in cui per esempio non si ha il potere non si ottiene il potere politico del governo locale quindi diciamo gli attori anche sono diversi come abbiamo detto questo è un elemento centrale della pratica del nuovo municipalismo e poi appunto c'è la parte dell'agenda politica come avevo detto appunto il socialismo municipale si dedicò principalmente alla creazione di quelle che furono le forme embrioniche embrionarie dello stato del welfare state quindi creò le prime imprese pubbliche i primi servizi sociali eccetera eccetera fu diciamo un elemento nella costruzione di quello che poi è lo stato del welfare state che conosciamo oggi e che si sviluppò poi soprattutto nel dopoguerra a livello nazionale invece appunto su cosa si basa invece l'agenda del nuovo municipalismo l'agenda del nuovo municipalismo appunto è questa idea dell'agenda del nuovo municipalismo si ricollega ovviamente alla forma organizzativa su cui il nuovo municipalismo si basa cioè appunto su questa relazione tra istituzioni e movimenti movimenti e istituzioni il nuovo municipalismo vuole da una parte ovviamente riafformare la responsabilità dello stato nella produzione e nella gestione dei servizi pubblici e quindi molte delle politiche del nuovo municipalismo sono state volte sono volte alla per esempio alla rimunicipalizzazione di molti servizi che sono stati precedentemente privatizzati nei limiti del possibile perché ovviamente le pratiche di rimunicipalizzazione non sono delle pratiche diciamo molto facili se da una parte lo stato locale nel momento in cui deve privatizzare un servizio pubblico è molto facile privatizzarlo invece rimunicipalizzarlo è molto complicato però queste sono state appunto delle proposte che sono state avanzate da diversi governi che sono stati appunto governati da forze del nuovo municipalismo a Barcellona per esempio posso fare qualche esempio di Barcellona le pratiche di rimunicipalizzazione sono state limitate c'era la volontà per esempio di rimunicipalizzare il servizio idrico ma questo non è stato possibile per diversi cavilli legali e quello su cui si è concentrato il governo locale sono state rimunicipalizzazioni più a piccola scala quindi non so un servizio di un servizio di come il servizio per le delle scuole degli asili mido per esempio o delle delle mense pubbliche su diciamo su piccoli servizi è stato possibile proporre e realizzare pratiche di rimunicipalizzazione ma su diciamo servizi più grandi quindi questo è stato è stato più più complicato tuttavia appunto il nuovo municipalismo non si basa solo sulla su un'espansione di quella che è l'azione dello Stato a livello di politiche pubbliche non si basa solo su una su una nuova responsabilità dello Stato e su un'espansione di quello che è lo Stato del welfare state o una ricostruzione di quello che era il welfare state come lo conoscevamo come lo conosciamo come lo conosciamo noi ma si basa anche su una serie di politiche che vedono una diciamo una una radicalità che includono una radicalità democratica e qui è dove l'idea del nuovo diciamo questa pratica del nuovo municipalismo si collega con il concetto di comune il concetto di comune è un concetto che viene spesso diciamo utilizzato da molte di questi di queste organizzazioni del nuovo municipalismo per appunto dare una rotta e dare anche una configurazione istituzionale a quelle che possono essere le politiche pubbliche che vengono realizzate proprio perché appunto come abbiamo detto il nuovo municipalismo non si basa solo su un intervento esclusivo dello Stato ma questo intervento esclusivo ma questo intervento dello Stato deve essere combinato con delle forme di partecipazione dal basso che non deve essere vista come una partecipazione come normalmente si vede la partecipazione ah ok consultiamo dobbiamo fare questo piano dobbiamo fare questa modifica al piano urbanistico e consultiamo i collettivi eccetera eccetera e facciamo un processo partecipato per questo obiettivo ma quello che fa il nuovo municipalismo è cercare di incrostare nelle istituzioni pubbliche queste forme di partecipazione e come si fa questo e diciamo alcuni alcuni esempi sono stati un esempio può essere non so sicuramente lo conoscete anche meglio di me il caso appunto della rimunicipalizzazione dell'acqua di Napoli per esempio dove c'è stato il tentativo di creare oltre di rimunicipalizzare il servizio idrico anche di creare uno spazio diciamo di controllo da parte della diciamo della cittadinanza anche se appunto poi magari possiamo parlare del caso napoletano e magari Maria Francesca ne sa anche più di me però diciamo ha avuto molti limiti questo caso però diciamo questa è un poco l'idea no di come sviluppare delle politiche pubbliche che sono appunto diverse io nel nel mio diciamo dalla mia esperienza vi posso vi posso parlare un po' di quelle che sono appunto le esperienze un po' di Barcellona e in genere della Catalunia per esempio anche in Catalunia c'è stato appunto un caso di rimunicipalizzazione del servizio idrico un caso il caso di Terrassa che diciamo nei discorsi sembra essere uno dei casi meglio riusciti non solo di rimunicipalizzazione ma uno dei casi meglio riusciti in cui si riesce a includere diciamo forme di partecipazione all'interno del disegno istituzionale dell'impresa pubblica in questo caso nel caso di Terrassa per esempio si include un osservatorio un osservatorio che è indipendente e autonomo e un osservatorio che può diciamo realizzare delle proposte per la appunto per la gestione del servizio ma non solo però non si limita solo a questo si limita si realizza anche delle appunto delle attività di diciamo di diffondere nozioni di politiche ambientali all'interno delle scuole eccetera eccetera insomma il caso di Terrassa è un caso in cui appunto il servizio idrico viene rimunicipalizzato perché appunto c'erano le condizioni scadeva nel 2017 la concessione però viene rimunicipalizzato proprio con questa idea di introdurre un elemento di comune e introdurre l'elemento del comune significa appunto creare delle forme di governanza partecipata dove il diciamo il potere decisionale nei nei del servizio che viene che viene gestito non sono solo nelle mani esclusive degli attori istituzionali dello Stato della municipalità ma sono anche nelle mani della cittadinanza organizzata e non che entra a far parte di questi canali di partecipazione oppure un altro caso molto diciamo conosciuto nel contesto di Barcellona è il caso appunto delle case popolari che vengono realizzate attraverso forme cooperative quindi diciamo ci troviamo di fronte a delle a degli spazi che sono degli spazi che sono pubblici che formalmente vengono dati in cessione a delle cooperative che possono appunto costruire delle costruire diciamo l'edificio dove possono vivere tutti i membri della cooperativa ma appunto i membri della cooperativa devono essere parte delle della lista delle persone che sono iscritte alla lista di attesa per entrare nelle appunto nelle case popolari quindi si sta realizzando in questo caso una appunto una delle case popolari quindi un esempio molto tipico dell'implementazione di politiche dello stato del welfare state ma attraverso delle forme cooperative che quindi danno capacità di organizzazione di potere decisionale appunto a dei gruppi organizzati oppure c'è il caso delle del patrimonio quello che viene definito patrimonio cittadino in cui c'è una rete di centri culturali sempre del comune di Barcellona il comune di Barcellona ha una serie di centri culturali che possono essere che vanno dai centri civici ai centri per gli anziani alle biblioteche ai centri per i giovani ai centri di quartiere e quindi questa politica il patrimonio cittadino quello che permette è di dare in gestione alcuni di questi centri culturali municipali quindi del comune a collettivi alcuni di questi centri culturali sono gestiti direttamente dal comune altri sono stati esternalizzati la gestione è stata esternalizzata attori privati ma ce ne sono alcuni che sono stati dati in gestione a dei collettivi locali soprattutto nel momento in cui c'era ovviamente questo è stato possibile soprattutto nel momento in cui c'erano dei collettivi che diciamo hanno richiesto di poter gestire in forma autonoma quel centro quel determinato centro culturale poi vabbè abbiamo ovviamente anche il caso della superiglia il caso della superiglia questa foto qui in basso a destra non è da non è un caso da menzionare nel senso di in questo senso nel senso che ci sono delle delle istituzioni ibride tra attori istituzionali e attori e collettivi locali ma diciamo è l'esempio di una politica che comunque prende in considerazione degli elementi che prima soprattutto non venivano presi in considerazione la superiglia significa una pedonalizzazione di molte aree della città di Barcellona che vengono quindi restituiti diciamo vengono tolte all'uso delle macchine vengono restituiti all'uso collettivo come piazze e parchi eccetera eccetera e quindi diciamo in questo senso volevo menzionare che appunto la politica del nuovo municipalismo è una politica che è molto attenta anche diciamo a livello tematico alla dimensione ambientale alla dimensione del cambio climatico ma è una politica anche molto attenta a tutta la questione diciamo femminista alla questione della cura per esempio e quindi durante per esempio il governo di Barcellona di Barcellona in Comun sono state diciamo è stata data molta enfasi a tutto questo aspetto della cura quindi è stato creato un babysitter municipale per esempio che ovviamente ha un uso molto molto limitato perché sono delle politiche da questo punto di vista costose ma per fare un esempio di come diciamo alcune oltre all'organizzazione delle politiche pubbliche c'è anche un cambio tematico nelle politiche pubbliche soprattutto in relazione ai temi appunto ambientali e ai temi femministi quindi tutte le politiche di cura non solo appunto a partire dai bambini ma dalla cura fino appunto alle persone più anziane alle persone dipendenti eccetera eccetera quindi in questo senso c'è un altro cambio un cambio non solo di forma ma anche tematico del nuovo municipalismo volevo volevo poi chiudere appunto il mio intervento facendo un poco una piccola riflessione su quello che possono essere le sfide a cui si avvicina il nuovo municipalismo soprattutto nel momento in cui per esempio come nel caso di Barcellona o come nel caso di Napoli poi appunto non c'è più non c'è più un partito politico diciamo che viene dal nuovo municipalismo che sta governando il governo il governo locale e quindi le riflessioni sono appunto che queste politiche di cui vi ho parlato in cui si cerca di dare una nuova configurazione istituzionale all'organizzazione dei servizi pubblici locali una configurazione istituzionale che non vede solo lo stato locale come unico detentore del potere decisionale ma un'organizzazione che vede anche forme di partecipazione che sono inserite nel disegno istituzionale del servizio pubblico ci danno ovviamente delle opportunità e dei limiti nel senso che l'opportunità che ci dà questa nuova organizzazione dei servizi pubblici questa nuova organizzazione delle politiche pubbliche è quella di permettere un controllo sociale che va oltre i cicli elettorali appunto nel momento in cui se abbiamo un se noi abbiamo un servizio idrico che è veramente partecipato in cui c'è veramente uno strumento di controllo di cogestione del servizio idrico per esempio da parte sia del governo municipale sia da parte della cittadinanza organizzata e questo ci permette di esercitare un controllo sociale e quindi esercitare la stessa pratica municipalista su determinate politiche su determinati servizi pubblici anche nel momento in cui non c'è un governo locale che va in quella direzione anche nel momento in cui non c'è un governo locale che viene dal nuovo municipalismo questo diventa imprescindibile soprattutto nel momento in cui il neoliberalismo a volte sembra finito ma in realtà non lo è le pratiche di privatizzazione sono sempre all'ordine del giorno e quindi diciamo avere una specie di controllo sociale all'interno di questi servizi pubblici può prevenire soprattutto la futura privatizzazione di questi servizi stessi perché diciamo è come creare una specie di contropotere però all'interno delle istituzioni stesse ovviamente questo ha dei rischi enormi perché nel momento in cui si creano queste istituzioni partecipate nel momento in cui la cittadinanza organizzata viene strutturata all'interno di queste forme istituzionali ovviamente c'è un rischio di cooptazione da parte del governo delle istituzioni statali c'è un rischio di limitare diciamo la capacità la radicalità che si vuole imprimere che si vuole dare a queste politiche pubbliche perché nel momento in cui si rientra all'interno di un discorso istituzionale bisogna un poco accettare o capire soprattutto però a volte anche accettare quelle che sono i discorsi linguaggi le dinamiche le logiche i metodi di funzionamento dello Stato locale che dello Stato in genere dello Stato locale che possono essere molto diversi da quelli che sono i metodi di discorsi i metodi di funzionamento della cittadinanza organizzata molto spesso le persone che entrano in queste forme di può succedere che alcune persone alcuni attivisti preferiscono rimanere fuori da queste istituzioni partecipate dalla creazione di queste istituzioni del comune perché vedono in queste istituzioni una forma di cooptazione una forma di diluire il potenziale radicale che viene dal movimento dai movimenti di questo possiamo parlare sicuramente nel nostro dibattito io posso timidamente dire che io penso che vale sempre la pena provare a creare delle strutture partecipate delle strutture in cui si cerca di ridistribuire il potere decisionale per quanto ci sia questa tendenza e questo timore questo rischio della cooptazione della diluizione della appunto della radicalità io credo che vale sempre la pena cercare di essere lì e di controllare quello che succede nelle istituzioni statali perché se no a volte perdendo il controllo le cose possono appunto possono andare anche in maniera che non ci piace questo ovviamente può succedere anche nel momento in cui ci sono queste strutture di partecipazione ma io credo che queste strutture di partecipazione possono dare appunto una marcia sono una marcia in più per controllare l'azione dello Stato le politiche pubbliche e bisogna imparare ad usarle in maniera strategica ovviamente e quindi essere attenti a tutti i giochi che un governo locale può fare a tutte le tempistiche a tutta la burocrazia che vuole inserire in questi spazi di partecipazione però questo è il mio punto di vista e possiamo anche discuterlo forse è un punto di vista che emerge anche dalle esperienze relativamente positive che il caso di Barcellona offre perché comunque appunto tutta la mia teorizzazione il mio punto di vista anche sulle politiche pubbliche viene da un contesto che possiamo dallo studio di un contesto soprattutto quello di Barcellona che può essere considerato un contesto relativamente privilegiato un contesto in cui appunto la pratica municipalista è stata capace appunto di realizzare queste istituzioni partecipate in forma ovviamente non perfetta ma in forma più efficace che in altri contesti in altri contesti locali mi fermo qui per il momento e niente ah è solo dire che non lavoro più all'università di Versa ma sono all'università di Barcellona ora quindi se mi volete contattare questo è la mia mail e grazie di tutto e niente aspetto le vostre domande l'impattito grazie Yolanda scusaci per la biografia non aggiornata a volte è difficile seguirti in giro per l'Europa è molto recente grazie grazie tanto per aver messo un po' in evidenza alcuni punti che insomma la campagna riprendiamoci il comune aveva già molto ben centrato ma che appunto alla luce degli sviluppi poi della campagna è molto utile ripensare prima di tutto un po' l'importanza del locale che non è solo appunto del livello locale del livello municipale che non è solo un limite ma è anche un'opportunità se vogliamo di iniziare a ripensare alcuni temi a ripensare le istituzioni stesse a un livello anche più ampio e soprattutto un po' la chiave anti-austeritaria che è stata al centro della campagna così come tutti i vari temi che hanno innovato attraverso il neomunicipalismo non solo i contenuti dell'agenda politica ma anche le modalità della politica come appunto la giustizia spaziale l'antirazzismo anche i temi ecologici che sono stati anche al centro della campagna che ha richiesto un appareggio di bilancio sociale ecologico e di genere sì penso che appunto se questa ultima domanda sia centrale per riaprire il dibattito perché penso che una delle questioni su cui interrogarsi volendo appunto avere un approccio trasformativo all'interno delle istituzioni è proprio come mantenere una dialettica sana tra i movimenti di base i partiti e tutto l'ecosistema diciamo che si muove nel mezzo perché poi è molto spesso soprattutto in momenti di conflitto particolarmente accesi è molto facile avere la tentazione di pensare che qualcosa si risolva con l'una o con l'altra forma quindi ti ringrazio ci sono anche nei commenti un sacco di ringraziamenti e appunto apro un po' la parola al dibattito prenotatevi un po' come volete potete scriverlo in chat oppure alzare la mano di zoom o se non riuscite provate a intervenire direttamente Maria Angela grazie visto che non che non interviene ancora nessuno mi butto interessantissimo e grazie mille per questo contributo di Yolanda che ha un po' aiutato anche me a mettere in quadro l'esperienza che a Torino abbiamo cercato di fare proprio nella direzione di portare in movimento un rapporto non solo conflittuale ma anche collaborativo eventualmente con le istituzioni con i partiti che però non è andato avanti noi abbiamo avuto anni fa un periodo di elaborazione secondo me interessante sulla partecipazione appunto all'indirizzo e gestione per l'acqua per l'acqua per il servizio idrico eravamo a buon punto con il risultato referendario con una trasformazione anche statutaria della nostra azienda dell'acqua che lasciava abbastanza spazio per parlare anche di partecipazione dal basso devo dire che per incapacità nostra per insufficienza nostra non siamo riusciti a trasmettere il messaggio efficacemente al movimento nel suo insieme che pure a Torino è vivace esiste ed è anche combattivo e nello stesso tempo anche il comitato acqua di Torino si è un po' come dire stufato di parlare di queste cose da due o tre anni non ne parliamo più anche se i documenti che abbiamo prodotto sono lì e io li ritrovavo adesso in parte nelle cose che Yolanda ci diceva affrontando appunto allora noi c'eravamo molto ispirati all'esempio di Parigi e di Napoli per quanto riguarda l'ingresso del potere di indirizzo e di controllo dei cittadini su un'azienda di servizi pubblici locali come un'azienda idrica lì ci siamo fermati credo anche per poca voglia nostra del comitato di spremersi ancora il cervello un po' presi da tante altre cose però il problema rimane soprattutto di fronte a questo indirizzo generale e diffuso a livello nazionale e non solo di privatizzazione con tutto quello che sta venendo avanti da parte del governo che rende ancora più difficile affermare questi principi senza avere un movimento che li sostenga e che ci aiuti a portarli avanti per cui io ringrazio moltissimo e volevo solo dire che comunque ci siamo su questa strada per esempio il 21 novembre proprio facciamo una riunione aperta ci sarà anche Marco che ci ha promesso di venire proprio su questi temi come come il movimento dal basso riesce a non tradire se stesso e nello stesso tempo partecipare in maniera più efficace e non solo conflittuale per la gestione dei servizi pubblici locali a partire dall'acqua quindi il tema è vivo almeno qui da noi Mario Sassi è uscito dalle riunioni prego non ho capito il microfono di Vittorio se puoi Vittorio vabbè niente ho finito grazie comunque per questo contributo molto molto utile grazie c'è anche Bruna che vuole intervenire magari prendiamo le due domande insieme così Paolanda può rispondere grazie io chiamo da Bologna visto che ha fatto riferimento al gruppo coalizione civica come movimento partecipativo io purtroppo devo constatare che è stata una grande delusione a Bologna si è costituito un gruppo per protestare contro lo smantellamento di una scuola chiamato Comitato Besta bene anche perché si opponeva contro l'abbattimento di un proprio un boschetto ecco parecchi alberi in sostanza bene da parte del gruppo che è poi la vicepresidente la vice sindaco di questo gruppo coalizione civica non ha assolutamente appoggiato il gruppo mi fermo qua grazie lo stesso dicasi anche per il bilancio partecipato anche qui ci sarebbe tanto da dire che è altrettanta delusione grazie comunque grazie a te sì do la parola a Yolanda perché già penso le domande siano belle poi appunto possiamo riprendere il dibattito rispondendo cioè collegandomi con quello che diceva a Maria Angela io non più che una domanda è una riflessione la cosa che ho notato e non so se magari poi me lo potete anche confermare che diciamo nel nel diciamo nel contesto italiano soprattutto in relazione alla all'acqua pubblica si è sviluppato molto questa idea di poter creare delle istituzioni partecipate eccetera eccetera e mi chiedo e questa è anche una domanda per voi se questa idea di creare delle istituzioni partecipate delle istituzioni basate su questa idea del comune si è anche diffusa in altri ambiti perché appunto quello che ho visto un po' io nel contesto di Barcellona è vedere come questa idea di creare delle istituzioni del comune cioè delle istituzioni istituzioni del comune intendo delle istituzioni in cui appunto il potere decisionale non è esclusivamente nelle mani dello Stato e quindi come questa politica si può applicare a diversi contesti a diversi settori di politica e pubblica come si può applicare all'abitare come si può applicare all'ambito di cura come si può applicare all'acqua come si può applicare alla gestione di servizi culturali eccetera eccetera io credo che sia importante iniziare a declinare questa idea di istituzioni del comune iniziare a ripensare tutti i diversi ambiti di policy diversi ambiti dello Stato del Welfare State perché appunto ci possono essere degli spazi di sperimentazione che forse stiamo anche perdendo mi rendo conto che magari nel contesto in cui c'è stato uno smantellamento del Welfare State ovviamente la priorità è quello di riaffermare appunto la responsabilità dello Stato però credo che questo bisogna sempre farlo pensando agli elementi che possono essere creati di partecipazione e di controllo sociale di tutti questi spazi di tutti questi servizi servizi pubblici proprio per evitare futuri smantellamenti future privatizzazioni eccetera eccetera riguardo al contesto di Bologna appunto io avevo detto io non so molto spesso io non conosco direttamente il contesto di Bologna ovviamente leggo a riguardo però appunto se non ricordo male proprio in un libro chiamato Firle City cioè le città senza paura editato da insomma Barcellona in Comù o comunque in cui molti attivisti di Barcellona in Comù avevano partecipato mi ricordavo che c'era un capitolo su coalizione civica di Bologna poi io appunto parlando con i vostri colleghi mi avevano espresso diverse riserve sul sul contesto bolognese però appunto questo per dire che molto spesso una una si cerca di vendersi come pratica del nuovo municipalismo quando a volte diciamo questa idea del nuovo municipalismo può essere anche contestata nel senso magari chi è dentro delle istituzioni si vede come portatore delle istanze dei movimenti in realtà questo non lo è quindi diciamo non è questo fa parte della dialettica e della conflittualità del nuovo municipalismo e fa parte anche diciamo poi a livello più teorico su che cosa poi in realtà su come possiamo definire se una pratica politica può essere definita del nuovo municipalismo o no ok grazie tra l'altro Yolanda è modesta ma in realtà anche scritto su Bologna un articolo sui comments nel 2017 mi sembra che pure trovo molto interessante appunto poi se vuole elaborerà allora io negli ordini negli interventi dovrei avere Roberto poi Gennaro e poi Vittorio quindi potete prendere la parola in quest'ordine grazie Maria Francesca grazie Yolanda ero particolarmente incuriosito da quello che Yolanda ci diceva a proposito di quelli che possono essere gli strumenti per fare in modo che le politiche partecipative e più in generale anche la gestione di servizi pubblici locali in modo in cui possono rimanere anche dopo la fine dell'esperienza anche di governo della città da parte di chi le ha proposte su questo farei una duplice domanda in parte Yolanda ha già risposto nella risposta precedente però andrei più nel come dire nel dettaglio andrei a chiedere più nel dettaglio se quali strumenti nelle esperienze che tu hai supervisionato in qualche caso sono stati trovati in un consulso creare questo e quale efficacia hanno avuto dopo che appunto terminata l'esperienza di governo ci sono stati o sono cominciati i tentativi di smantellamento scusa Roberto non si è sentito o almeno io non ho sentito bene la domanda si è intermittente la tua voce si scusami la quali sono gli eventi penso soprattutto quelli giuridici ma non soltanto anche partecipativi che hanno consentito di mantenere o di dire affrontare le politiche in cui è governato si è costruito partecipazione o gestione diretta e pubblica partecipata dei servizi pubblici locali appunto quali sono stati questi strumenti che sono stati creati mentre si era il governo seconda faccia della domanda è ti risulta in cui queste forme di tipo appunto partecipativo neomunicipalista sono riuscite ad essere imposte dai movimenti senza nemmeno dover prendere il potere politico locale grazie spero che tu mi hai sentito stavolta ok Gennaro sì grazie Francesca grazie Yolanda per questo intervento che considero importante insomma e soprattutto vorrei fare una domanda che deriva da alcune considerazioni rispetto a questo approfondimento che anch'io leggo come una necessità diciamo di collegare l'aspetto teorico l'aspetto pratico o se vogliamo insomma la necessità di dover sperimentare dei nuovi istituti del comune dei nuovi istituti di cittadinanza e sperimentare questa interlocuzione interazione interlocuzione tra istituzioni e movimenti soprattutto cercando un linguaggio un linguaggio una prassi o una forma che si avvicini insomma per per intendersi insomma quindi comunque intravedo un percorso fondamentale per ricostituire diciamo un approccio alla politica che anche per quanto mi riguarda e per come la vedo io non può che ripartire dal locale da una dimensione delle politiche pubbliche delle politiche urbane delle politiche locali forme che potrebbero aiutare anche un'idea un po' più generale di ricostituzione dell'approccio politico e della politica quindi in qualche modo la leggo questa questo neomunicipalismo questa prassi queste sperimentazioni come le vie le mie vie maestre come quando diciamo sostanzialmente che un approccio al rivedere a rivendicare nuove forme della politica passano per la costituzione o per degli approcci costituzionalmente orientati io vedo che oltre a nel nostro caso insomma nel nostro caso della nostra costituzione o comunque nel caso delle costituzioni che che permettono di preservare delle idee alte no di diciamo dei diritti fondamentali e delle idee della cura o altro e oltre questo io vedo questa strada maestra delle politiche pubbliche delle politiche urbane e dei nuovi istituti del comune cioè di quello che stiamo di cui stiamo parlando ora la mia domanda è che fortunatamente qualche esperienza negli ultimi dieci anni anche in casa nostra ma con tutti i pro con tutti i contro insomma casa nostra intendo sia l'Italia che Napoli insomma eccetera ma queste sperimentazioni comunque incominciano a tracciare sia le potenzialità e sia le forme come dire di consolidamento di formalizzazione di queste di queste esperienze no quindi la mia domanda è rispetto a ciò che si conosce di queste sperimentazioni della Roma messi in pratica si è riusciti anche a riscrivere a riscrivere quindi stiamo parlando di un processo di di scrittura dei nuovi istituti del comune noi l'esperienza napoletana diciamo si è un po' concentrata sugli usi civici e collettivi e di scrittura dentro gli istituti di cittadinanza io ti chiedo si è riusciti in tutte queste città da Barcellona a Zagabria a tutte le altre che conosciamo a riscrivere gli istituti di cittadinanza i vari istituti di cittadinanza i vari statuti comunali comunque siano declinati e comunque siano formalizzati nelle varie forme europee verso una strutturazione rafforzamento io dico avanzamento delle forme di partecipazione protagonista cioè non la partecipazione della consultazione come hai detto tu insomma ma una partecipazione vera che sia una partecipazione che delibera che interviene che soprattutto è riconosciuta perché la dimensione del riconosciuto di queste strutture dei soggetti della partecipazione fa il vero cambiamento sostanzialmente ti chiedo se hai proprio hai cognizione delle scritture riformulazione degli statuti e degli istituti di cittadinanza nelle città che tu hai studiato ringrazio ringrazio anche Gennaro della parola a Vittorio e poi prima di passare alla domanda di Erminio se per te va bene faccio rispondere un attimo a Yolanda invito un po' a contenere il tempo degli interventi perché abbiamo promesso a Yolanda di finire puntuali e magari abbiamo anche voglia di sentire le risposte Vittorio Sì grazie anch'io ringrazio Yolanda e prendo stimolo da quello che chiedeva cioè se ci sono state altre esperienze oltre quelle classiche dopo il referendum del 2011 su forme partecipate su altri temi e e quindi ancora una volta viene citata Napoli perché cioè a Napoli è stata costituita dall'Aggiunta dei Magistris la consulta sull'audit del comune di Napoli sia sull'audit che sulle risorse e però anche qui poi mi riconnetto alla domanda che ha fatto Roberto cioè finita la Giunta dei Magistris è finita anche questa esperienza l'esperienza era importante e fondamentale cioè intanto per i criteri che attraverso il lavoro di attacca Napoli massa critica eccetera quindi dei movimenti si era riusciti a dare a questo percorso ovvero la nomina di una serie di esperti economici e io ho avuto l'onore di farne parte la consulta era presieduta dall'ex presidente della corte costituzionale Paolo Maddalena e ha avuto modo di intervenire sulle questioni e una quota della delle persone che facevano parte di questa di questa consulta erano cittadini nominati attraverso l'iscrizione a un bando pubblico e quindi rientriamo in quello che tu ci hai raccontato di avere anche persone comune interessate come dire cioè che interagivano con con gli esperti si è occupata del debito del comune dei Napoli come dire cioè si è occupata di tutto il la questione dei dei fondi monetari che erano stati attivati dal comune si è occupata della gestione del patrimonio civico ha prodotto dei documenti importanti anche a livello nazionale perché contestava cioè tutta la gestione dei commissari dei sette commissariamenti che ha subito il comune di Napoli da parte del ministero degli interni dove i commissari hanno creato più danni che benefici per la cittadinanza però ecco nonostante i tentativi di coinvolgere questa esperienza sia come dire c'è attraverso l'Anci quindi l'associazione di tutti i comuni italiani sia di coinvolgere i comuni che erano in dissesto predissesto ed erano quasi tutti i comuni del sud non siamo riusciti a acquagliare e come è subentrata la giunta Manfredi quindi la giunta PD come dire è finito l'effetto di tutto questo lavoro in base alle tue esperienze ci sono delle modalità per consolidare queste pratiche avevamo tentato di far passare da delibera di giunta a delibera di consiglio in maniera che ci fosse un iter diverso per poterla bypassare però anche questo non è stato possibile attivarlo grazie ok cercherò di rispondere un po' a tutte le domande credo che ci sono dei degli elementi in comune alle domande che sono state fatte allora in primo allora per primo cerco di rispondere a Roberto che mi chiedeva quali sono gli strumenti giuridici e partecipativi per creare queste nuove istituzioni allora io non sono una sociologa non sono esperta di questioni giuridiche però ovviamente studiando queste forme queste nuove istituzioni del comune mi sono resa conto che appunto l'elemento giuridico è particolarmente importante ed è soprattutto molto spesso un elemento che limita la creazione di queste nuove forme istituzionali vi faccio un esempio l'esempio di appunto la città che forse conosco di più Barcellona vi avevo detto che a Barcellona ci sono questi centri culturali che sono dati in gestione ai collettivi della città come si fa questo perché ufficialmente nel momento in cui dai in gestione ad un collettivo sociale un centro culturale pubblico lo stai esternalizzando quindi in teoria secondo la legislazione spagnola dovrebbe si dovrebbe aprire appunto un concorso pubblico in cui possono partecipare appunto attori tanto pubblici come privati e quindi molto spesso se si aprisse questo concorso pubblico i collettivi più piccoli hanno poca capacità di vincere questo concorso perché comunque non può soffrire le stesse condizioni vantaggiose a livello economico eccetera eccetera quindi questo era un limite molto importante per poter effettivamente esternalizzare questa gestione di questi centri culturali ai collettivi della città come fu fatto questo? Fu fatto attraverso appunto un diciamo uno stratagemma diciamo giuridico la città di Barcellona appunto ha uno statuto sulla partecipazione e quindi che dice che appunto si può fomentare la partecipazione dei collettivi anche nella nella gestione dei servizi pubblici e quindi questo la esternalizzazione nel momento in cui si da in gestione un centro culturale ha un collettivo organizzato si dice che è una forma di partecipazione e quindi si bypassa la legge spagnola della contrattazione pubblica e in questa maniera si riesce a dare in gestione i centri culturali a questi collettivi organizzati questo è un esempio giusto un esempio per far capire come appunto la struttura giuridica in cui molto spesso ci troviamo molto spesso rappresenta un limite e bisogna appunto creare degli elementi innovativi come anche molti di voi conosceranno nel caso di Napoli non lo conosco bene come Maria Francesca eccetera eccetera ho tanti altri colleghi però anche là sono stati appunto utilizzati dei dispositivi per appunto per innovare per appunto andare oltre quelli che erano dei limiti dei limiti giuridici per fare questo come si fa ci vuole appunto moltissima volontà politica per quello la seconda domanda di Roberto era appunto se sappiamo di esperienze in cui queste questo tipo di pratiche sono state imposte dai movimenti su dei governi che non erano diciamo dei governi del nuovo municipalismo io credo che questo sia molto difficile proprio perché nel momento in cui abbiamo l'obiettivo di creare delle istituzioni delle forme istituzionali diverse delle forme istituzionali che prevedono appunto questa partecipazione protagonista come la chiamava Gennaro bisogna rinventarsi un poco anche la struttura la struttura la struttura giuridica la struttura amministrativa molto spesso tanto la struttura giuridica come quella amministrativa non sono fatte per ospitare queste forme di controllo sociale queste forme di partecipazione appunto di partecipazione protagonista quindi è molto difficile che questa cosa possa essere imposta dai movimenti a un governo di destra credo sia molto difficile per quello appunto la pratica municipalista non si riduce nella conquista del potere del governo locale però la conquista del governo locale è importante soprattutto per attivare queste diciamo queste per introdurre queste forme di partecipazione a livello dello Stato che possono andare oltre la pratica il governo locale però c'è anche da dire che queste forme di partecipazione non sono neanche queste forme di partecipazione radicale diciamo di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici è difficile anche che le introduca un governo locale semplicemente di sinistra senza una forte pressione dei movimenti io credo che per poter innovare magari la parola innovare non mi piace ma per dare per creare delle nuove istituzioni all'interno di quello che è lo Stato locale io credo che c'è bisogno un po' di una forte volontà politica ed è difficile avere questa forte volontà politica senza avere un governo che diciamo sposi questa prospettiva però ci vuole anche una forte spinta da parte dei movimenti sociali la domanda di Gennaro per quanto riguarda appunto se questi se queste esperienze sono riuscite a diciamo riscrivere gli statuti appunto conoscendo nel contesto di Barcellona non c'è stato un cambio generale appunto per esempio questo famoso documento la carta di Barcellona che prevedeva la partecipazione della cittadinanza nella gestione dei servizi era un documento che era già lì ed era stato fatto tantissimi anni fa per altri motivi però sì appunto c'è stata la necessità come avevo detto prima di reinventare di creare degli strumenti più che altro di reinventare degli strumenti giuridici e di ricreare delle nuove forme di funzionamento dell'amministrazione e questo si viene anche si concreta anche in documenti amministrativi dove appunto viene stabilito non so l'iter procedurale di come appunto alcuni dei centri come alcuni centri culturali vengono assegnati ai collettivi o viene stabilito l'iter procedurale secondo cui appunto non so l'osservatorio dell'acqua di terrazza può partecipare alla gestione del servizio idrico insomma credo che più che a livello generale di cambi più generali credo che quello che si è prodotto sono piccoli cambi all'interno dei distinti ambiti di policy in cui la creazione di queste in cui si è cercato di creare queste nuove istituzioni ovviamente questi sono cambi che poi possono essere di nuovo possono essere nel momento in cui non c'è un governo diciamo amichevole possono essere nuovamente cambiati però nel momento in cui si producono appunto questi documenti queste questi questi nel momento in cui si producono dei libere nel momento in cui si producono documenti amministrativi vincolanti alla fine piano piano queste forme di partecipazione vengono vengono incluse e poi modalità per consolidare queste pratiche questa è una domanda difficilissima nel senso appunto io credo che alla fine ci rendiamo conto che di nuovo anche qua nel contesto di Barcellona Barcellona come Napoli non è più governata da Barcellona in comune ma c'è il partito quello che sarebbe il partito il corrispettivo del partito democratico che sta governando Barcellona e anche qua si vede come appunto alcuni ambiti di politiche alcune proposte di politiche sono state completamente abbandonate dalla nuova amministrazione e mi riferisco per esempio a quell'esempio che vi avevo fatto della superiglia di questa pedonalizzazione della città che aveva avuto tantissimo successo era stata insomma aveva avuto anche una risonanza internazionale ovviamente questa pedonalizzazione di molte aree della città aveva portato anche delle diciamo delle conseguenze che dovevano essere gestite e governate perché aveva portato forme di gentrificazione aumento del prezzo degli immobili eccetera eccetera che bisognava in qualche modo governare però per esempio il nuovo governo municipale ha deciso completamente di fermare questa questa politica e lì come si fa è difficile farlo se non si ha un piede nel governo locale di nuovo perché è appunto una politica così diciamo positiva dal punto di vista ambientale soprattutto nell'ottica del cambio climatico eccetera eccetera viene completamente fermata nella stessa maniera in cui l'avrebbe fatto un governo di destra o estrema destra e ci far rendere conto di quanto è molto importante avere un piede nelle istituzioni quindi come consolidare queste pratiche non so dare una risposta diciamo a questa domanda è una è più che altro no è veramente molto diciamo per quello bisogna cercare di fare il più possibile nel momento in cui si ha un piede anche nel governo proprio per cercare di consolidarle nel momento in cui si ha un piede nel governo perché poi nel momento in cui questo piede nel governo non si ha più molte di quelle proposte politiche che si erano fatte molte di quel lavoro quanto lavoro è stato è stato perso mi immagino anche nel caso di Napoli ma anche nel caso di Barcellona riguardo a questa pedonalizzazione erano stati fatti piani per una pedonalizzazione di tutta la parte centrale di Barcellona con processi partecipativi tutto un lavoro che è stato fatto che è stato completamente messo da parte e accantonato quindi niente c'è da parte posso solo condividere nel senso i limiti e la delusione che c'è anche da questa parte si può solo cercare di rafforzare quello che è un po' le domande le richieste dal punto di vista dei movimenti cercare di produrre documenti che dimostrino quanto quella politica fosse valida però insomma incidere poi nella politica pubblica concreta è difficile grazie la parola a Erminio che l'aveva chiesta rinnovo ovviamente l'invito ai tempi Erminio sì io volevo esprimere un po' la mia opinione trovo che Gennaro ha fatto un'introduzione abbastanza di domande ma con dei concetti che condivido allora i direttivi i gruppi che si attivano sono destinati a vivere della forza dei presenti dei partecipanti che gestiscono momentaneamente un intervento anche che ha un certo significato però l'istitualizzazione di questa presenza è ancora un punto di domanda io vivo un po' un'esperienza anche di più Democrazia Italia che cerca di mettere sul territorio strumenti partecipativi tipo generale che devono avere anche loro lo sviluppo dov'è che trovo personalmente con la mia riflessione la possibilità che non ci sia soggetti al potere politico di turno è inserire la presenza negli strumenti esistenti di partecipazione che negli statuti come diceva lui ci sono tutti tutti hanno schermante di partecipazione ma quando andiamo a vedere sono del specchietto per le allodole perché il potere vero e proprio non lo danno bisogna far sì che all'interno di questi statuti o comunque elementi giuridici fondanti di tutte le pubbliche amministrazioni si possa inserire una partecipazione dei cittadini stabile quindi non si può mettere un collettivo faccio l'esempio ma si può mettere una votazione dei cittadini disponibile a riempire un quarto del consiglio di amministrazione dove possono determinare o comunque sicuramente controllare operazioni diciamo non diciamo di che tipo ma possiamo immaginare e quindi li obblighiamo a fare un lavoro serio perché noi non siamo pagati proprio per progettare e dargli la cosa alternativa perché o troviamo dei grandi progettisti che sono in grado di contraddurre grandi piani ma sostanzialmente molto difficile e solo episodico quindi per me la risposta che direi a Gennaro è quando si entra in dinamica di qualche gruppo che vuole spaccare il mondo ma non deve però pensare che non esisterà mai e bisogna invece lottare perché gli statuti gli strumenti giuridici che fanno riferimento all'operato poi delle singole pubbliche amministrazioni prevedono la presenza dei cittadini e proprio nelle strutture di controllo dell'acqua pubblica o di altre cose non solo se la passiamo al politico di turno o la maggioranza di turno ha risolto il problema ci vuole dentro una componente anche cittadini magari eletti o magari estratti a sorte fatti in qualche maniera che siamo pietra di inciampo perché facciano quello che vogliono almeno come fase a breve periodo dopo si può ancora migliorare ma altrimenti le esperienze quasi tutte si perdono è anche quello che fa la gestione dei centri culturali se questa forza di uomini scompare per una serie motivi per l'età per altri impegni perde la capacità di produrre quello che in questo momento producono bisogna trovare una forma istituzionalizzante che il cittadino venga anche tra cent'anni perché ha uno spazio codificato nello statuto non ho mi fermo qui perché il tempo è quello che è ma è uno spunto potrei anche parlare di più ma ormai siamo un po' alla fine e quindi lascio a lei una sua opinion grazie non so se riesci a prenderla Yolanda ma c'è anche una domanda in chat volevo chiedere quali istituti di partecipazione garantiscono che la partecipazione sia a livelli alti della scala ovvero oltre alla consultazione stadio a cui per esempio le assemblee cittadine si fermano e come sono normati questi istituti inoltre mi interessava il discorso sui criteri che possono stabilire una reale penetrazione dei movimenti nella vita politica credo sia un discorso grande magari per i prossimi incontri ma intanto chiedo approfondimenti se c'è modo Yolanda sì credo che anche la domanda si collega a quello che stava dicendo Erminio nel senso anch'io appunto le diverse politiche di cui ho parlato appunto sono delle politiche in cui si è cercato di dare uno spazio formale codificato istituzionalizzato a queste forme di partecipazione proprio appunto per evitare che con i vari cicli i vari cicli politici queste istituzioni queste forme di partecipazione possano essere possano essere smantellate quindi questo secondo me appunto è al centro di quella idea di di comune che di come ripensare le politiche pubbliche di come ripensare le istituzioni pubbliche attraverso questo questo concetto di comune bisogna anche dire che nel momento in cui noi facciamo tutto questo ragionamento sul comune su come dare profondità democratica alle istituzioni pubbliche per creare forme di controllo sociale eccetera eccetera è un discorso bellissimo che io sposo però poi a volte la realtà dimostra che non sono tante le persone disposte a partecipare e poi là entra anche tutto il discorso su fino a che punto e come creiamo delle istituzioni che possono essere veramente inclusive su delle istituzioni che possono garantire un equilibrio nelle voci che partecipano in questi in queste istituzioni democratizzate anche per la piccola esperienza che ho avuto nel contesto appunto di Barcellona alla fine molto spesso sono sempre gli stessi collettivi che sono già organizzati le stesse persone che si sono già mobilitate da tempo che sono sempre là pronti a dare l'opinione a entrare in questi spazi di partecipazione spazi di governanza democratica quindi si dovrebbero anche pensare appunto oltre a pensare gli spazi a garantire per statuto per no a livello di amministrativo la creazione di questi di questi di questi spazi di queste istituzioni del comune all'interno delle istituzioni pubbliche bisogna anche cercare di permettere una maggiore no inclusione perché se no rischiamo cioè l'altro rischio di queste istituzioni è che e che alla fine vengano controllate sempre dalle stesse persone che non è necessariamente qualcosa di nel senso esercitare un controllo con una visione politica se lo esercitano sempre le stesse persone l'importante è che si esercita quel controllo sì però no ci possono essere dei punti di vista che non stiamo raccogliendo ci possono essere delle prospettive no che non stiamo prendendo in considerazione quanti di questi spazi quanti di questi non so spazi istituzionali diciamo spazi di governanza partecipata sono vi partecipano anche non so popolazione migrata o altre altre persone della città quanto sono quanto sono usati dai giovani dai ragazzi di 16 a 17 anni ci possono essere tanti no limiti nella partecipazione che secondo me anche bisogna cercare un po' oltre la creazione dello spazio anche di creare le condizioni affinché questi spazi siano realmente inclusivi poi là ci possono essere appunto mille formule ci può essere no il sorteggio ci possono essere là c'è tutta una letteratura su come disegnare delle no innovazioni democratiche che siano quanto più giuste possibili però insomma questo elemento anche che questi spazi che la partecipazione poi può essere anche no non è sempre una partecipazione di tutte e di tutte le voci dobbiamo anche tenerla tenerla in considerazione e riguardo la domanda quali istituti di partecipazione questo poi dipende veramente dal contesto locale nel senso io per mia no non conosco molti degli istituti di partecipazione che vengono utilizzati nel contesto italiano magari vi posso parlare degli istituti di partecipazione nel contesto barcellonese ma questo dipende molto dal 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 contesto locale come e come diciamo la partecipazione viene normata a livello locale quindi ovviamente si possono prendere spunti da quello che fa dall'esperienza di una città e portarlo in un'altra però poi appunto bisogna sempre cercarlo di cercare di adattarlo al contesto locale a quello che è appunto a come già viene normata la partecipazione a livello locale e capire quali esperienze possono essere trasportate quali esperienze possono essere incluse in un'altra città e quali che no come devono essere cambiate a seconda del contesto locale eccetera bene grazie ti ringrazio e approfitto di questi cinque minuti per richiamare due date forse collegate a una serie di temi che ci stiamo dicendo la prima è l'incontro di Fairley Cities dall'1 al 3 novembre a Sheffield che è appunto l'incontro della rete europea non solo europea in realtà mondiale delle città municipaliste che di tanto in tanto si tiene in luoghi diversi proprio per favorire la partecipazione delle reti locali e naturalmente il secondo è il prossimo incontro di questo corso che è il 21 ottobre dalle 6 alle 8 con Francesco Brancaccio l'esperienza della comune di Parigi e la sua attualità ringrazio ancora Yolanda e tutte le persone che sono intervenute e vi auguro una buona serata grazie mille a tutti a tutti grazie a voi buona serata grazie ciao